Giovanni, Elena, io sono qui. Non è solo lo stato mio in questo momento, ma io sono qui e soprattutto la rassegna, l'evento legato all'arte contemporanea che si svolgerà a Pinerolo durante la fiera dell'artigianato. Con io sono qui c'è la possibilità di visitare i musei della rete civica pinerolese, che sono musei civici e privati. In ogni museo ci sono due o più installazioni, scelte da noi di artisti contemporanei italiani e internazionali. In più c'è la possibilità di visitare su prenotazione la collezione Aghemo, di uno dei più importanti scultori piemontesi, che è qui a Pinerolo, a via Silvio Pellico 59. E in abbinata a Io sono qui c'è la possibilità di visitare Face to Face, che è la mostra dell'Amplenera nella sede di Baudenasca. Qui siamo, nello specifico, nel museo etnografico di Pinerolo. Che cosa è stato ricreato qua? Un ambiente rurale, contadino, dove ci sono tutti gli attrezzi che servivano alla casalinga, cioè la vita dura di quei tempi. Abbiamo inserito questo lavoro di Chen Li, che è un lavoro molto particolare, che ricorda la famiglia, l'uovo in particolare, e dobbiamo tenere conto che la famiglia cinese, come noi sappiamo, è molto stretta e quindi ci è perso il luogo adatto. Perfetto, quindi io sono qui a Pinerolo durante la Fiera dell'Attigianato dall'8 all'11 di settembre.